Salve, salve da Marco Calabro per conto di CieloCosto.it. Ci troviamo oggi a Bogotà in Colombia e stiamo facendo una valutazione sulla flotta Maddalena, una delle compagnie che partono anche dal terminale dove ci troviamo adesso, la terminale del nord di Bogotà. La flotta Maddalena ha un buon livello qualitativo di servizio, la flotta ha attualmente preso anche dei nuovi veicoli con cui sta operando sul mercato nazionale, ha una buona comparazione di qualità e prezzo e questo è sostanziale per la valutazione di un'impresa. Grazie sempre per seguire i video di CieloCosto.it e arrivederci al prossimo video.